Settimana importante, questa per il premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, infatti sono previsti gli ultimi tre giorni a conclusione dell'evento. Le due serate clou che sono venerdì e sabato, dove saranno proiettati i corti, il corto vincitore del premio Giuseppe Caporale, che quest'anno ci è lasciato una grandissima partecipazione, sono venute più di sette corte, che non sono pochi. E in più ci sarà una proiezione di un corto di domenica, tante sorprese. Abbiamo questa chicca di avere con noi Arturo Vagliando al comunale, dopo di Arturo ci sarà l'Istituto Braga, che fa parte della nostra storia culturale. E sabato c'è questa grande cerimonia di premiazione, che è il culmine della ventesima edizione. Avremo tanti ospiti, ci sarà la madrina del premio Andrea Ferreol, tanti attrici, ma soprattutto i direttori di fotografia, perché il premio è dedicato ai maestri della luce sotto il nome di Gianni Di Venanza. C'è anche un appendice che durerà ancora un altro paio di settimane. Quest'anno siamo partiti dal 28 agosto e finiremo l'8 novembre con il concerto alla Cassa di Riposo.